In linea del tutto teorica, la sicurezza di una compagnia aerea dovrebbe essere una di quelle cose di cui non doversi mai preoccupare quando si viaggia. In realtà, non è proprio così. Infatti, è molto meglio viaggiare con l'australiana Cantas, la compagnia più sicura del mondo, che con la Nepal Airlines, in ultima posizione nella graduatoria delle compagnie sicure. Creare una tabella della sicurezza aerea non è certo un compito facile, ma Airline Ratings, un sito web specializzato in sicurezza e in revisione dei prodotti delle compagnie aeree, se ne occupa tutti gli anni, monitorando costantemente 405 compagnie aeree in tutto il mondo. Questo tipo di classifica tiene conto di numerosi fattori, quali le uditi da parte di enti e di governi, il registro degli incidenti più o meno gravi, l'età della flotta, la posizione finanziaria della compagnia, l'addestramento dei piloti e la preparazione dell'equipaggio. Se tra le prime dieci compagnie classificate non ci sono differenze sostanziali, se confrontiamo le prime con quelle che stanno oltre la decima posizione, emergono divari più ampi. Ma tornando alle compagnie aeree principali, ecco la classifica edatta da Airline Ratings delle venti più sicure del mondo, dati 2019. Ma tornando alle compagnie aeree principali, ecco la scuola, ecco la scuola, ecco la scuola. Grazie Ti aspettiamo per nuovi video ogni settimana, per non perderli iscriviti al canale MetalliRari.